L'eccellenza è avere competenze tecniche e ingegneristiche che fanno una differenza. È capire e conoscere il bisogno dei clienti. È il perfetto equilibrio tra metodo e risorso umano. Alzare sempre più l'asticella per essere leader a livello di mercato globale. L'eccellenza è il Commerce Business System. È innovazione ed efficienza. L'eccellenza di prodotto è l'arte applicata alla meccanica. Essere eccellenti vuol dire evitare gli sprechi. L'eccellenza è sognare, pensare in grande, darsi dei traguardi che sfidano l'ignoto. L'eccellenza è il posto ideale dove lavorare. È raggiungere i risultati e mantenerli nel tempo. L'eccellenza è migliorare continuamente le performance aziendali. È la ricetta perfetta per ottenere il miglior risultato in ogni cosa che facciamo. L'eccellenza è forza innovativa, qualità, affidabilità ed evoluzione continua. Apprendimento e formazione permanente. Misurare i nostri processi ed elaborare piani di miglioramento basati sui dati. E fare bene le cose al primo cuore. L'eccellenza è relativa, non è mai assoluta. È spirito di squadra. Eccellenza è deliziare i clienti con prodotti e servizi eccezionali. L'eccellenza è la nostra scommessa.